Lavoro forzato, prostituzione, traffico di organi e di droga sono solo alcune delle moderne forme di schiavitù che Papa Francesco elenca ai partecipanti alla sessione plenare della Pontificia Accademia delle Scienze dedicata alla tratta di persone ricevuti stamani in Vaticano. Ricordando il messaggio di libertà portato da Cristo nel mondo, il Papa sottolinea che nel sistema economico globale dominato dal profitto si sono sviluppate nuove forme di schiavitù che siamo chiamati a combattere e a denunciare, nonostante la tendenza ad occultare perché scandalose e politicamente scorrette. È una piaga, afferma Francesco, che riguarda tutti i paesi e per questo è necessario migliorare le legislazioni per assicurare alla giustizia i responsabili e reimpiegare i loro ingiusti guadagni per la riabilitazione delle vittime. Siamo chiamati a migliorare le modalità di riscatto e di inclusione sociale delle vittime, aggiornando anche le normative sul diritto di asilo. Deve aumentare la consapevolezza delle autorità civili, cerca la gravità di tale tragedia che costituisce un regresso dell'umanità. E tante volte, tante volte, queste nuove forme di schiavitù sono protette delle istituzioni che devono difendere la popolazione di questi crimini. Grazie. 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 Grazie.